La mia parte preferita è stata quando Paul ha suonato il suo flauto e ogni cosa nella fattoria ha iniziato a crescere. Non avremmo potuto riportare il flauto a Paul senza di te. Grazie per il tuo aiuto! Ehi, guarda! È Boo! Trova Boo! Ehi! Prova a prendermi! Non riuscirai a trovarmi! Ehi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.